Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Immaginate un filato che possa fondere perfettamente sostenibilità e comfort. Un filato perfetto anche per chi odia la lana ma vuole sentirsi avvolto in un caldo abbraccio. Un filato che pensa al comfort ma anche allo stile. Ecco a voi in questo Tessila News l'ecodonni 100% cotone 100% sostenibilità. Eccolo qui il nostro ecodonni si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di 240 metri. Lo spessore è medio infatti si lavora o con i ferri 6 7 oppure con l'uncinetto 5 6 ovviamente questi sono dei semplici consigli poi il tutto va adattato in base alla lavorazione al punto e soprattutto alla vostra mano. Parliamo di una rocca in cotone ecologico riciclato 100% cotone. Questo ecodone possiamo dire che è il risultato di un processo produttivo che davvero permette di realizzare un filato che è un capolavoro di ecoefficienza. Infatti c'è meno CO2, meno energia, meno acqua e prodotti chimici. Oltretutto la sua struttura molecolare fa sì che questo ecodonni sia fresco in estate e caldo in inverno rendendolo quindi davvero un passepartout per ogni stagione. Veniamo adesso alla manutenzione. Per i primi lavaggi è sicuramente consigliabile un lavaggio a mano in modo tale che la fibra possa assestarsi per bene. Consigliamo di riporlo in una posizione piana per asciugarlo. Perfetto per dare un tocco country o shall be chic alle vostre creazioni che siano capi di abbigliamento che siano home decor. Ma ci sono anche tanti colori che potrete trovare nella gamma delle codonni. E quindi scopriamoli insieme. Se state cercando quindi un filato che possa essere traspirante ma anche molto caldo per il vostro abbigliamento oppure se state cercando qualcosa che possa essere morbido in cotone ma allo stesso tempo dare anche il giusto sostegno alle vostre creazioni quali borse home decor ecco qual è la risposta ecodonni. Tessiland ha lavorato davvero duramente per creare un prodotto che possa essere innovativo che possa rispettare l'ambiente e il tutto ad un prezzo accessibile. Come riuscite a fare tutto questo? Utilizzando dei ritagli di capi di abbigliamento puro cotone e realizzandoli quindi poi in quello che è le codone e quindi un filato sicuramente sostenibile ma anche di alta qualità. Se notate qualche piccola imperfezione in realtà non è altro che una cicatrice di una battaglia di un prodotto riciclato con amore. Disponibile in tantissime varianti di colore in modo tale da poterlo utilizzare singolarmente o magari mixandolo sia per capi di abbigliamento quali cardigan, vestiti, gonne, top o perché no anche per borse, borse granny oppure home decor. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social vale a dire instagram, pinterest, facebook, tik tok e youtube, di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo Tessilan News. Ciao! 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 Ciao!